Dal 2005 ad oggi le associazioni anti-racket si sono costituite parte civile 283 volte, prendendo parte a 224 processi. Sono ormai decine le associazioni italiane che si occupano di estorsione e di usura, concentrate in prevalenza nel mezzogiorno. Sono sei nella sola città di Napoli ma altre hanno sede in Umbria, nel Lazio, in Lombardia. In un convegno all'Istituto Italiano per gli studi filosofici alcuni dei principali attori della lotta al racket hanno fatto il punto sui progressi della giustizia nell'ultimo decennio. I passi più importanti a mio avviso sono la partecipazione delle associazioni anti-racket, la costituzione di parte civile di molte di queste strutture delle amministrazioni pubbliche che dimostrano un interesse e un coinvolgimento della cittadinanza attiva in questi problemi, queste vicende che riguardano la sicurezza di tutti i cittadini. Forti le critiche all'indulto, che per Alemi segna una sconfitta dello Stato, e a certi meccanismi dell'attuale ordinamento penale, che portano alla condanna di individui a basso allarme sociale e rischiano invece di liberare soggetti socialmente pericolosi. Il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ha sottolineato che l'estorsione è l'attività basilare di ogni criminalità organizzata. Bisogna denunziare, ma non solo bisogna che denunzino, quello è essenziale, ma poi alla denunzia deve seguire tutta un'attività di assistenza legale all'imprenditore che denunzia in modo che egli possa sempre sentirsi sostenuto, protetto e tutelato. Io la prima cosa che chiederei al Parlamento è la riforma della prescrizione dei reati, quella è fondamentale per tutto. Poi dopo naturalmente c'è tutta un'altra serie di riforme da fare, sulle quali spero che il legislatore finalmente si incammini. La prescrizione vanifica ogni anno la metà dei processi penali. Secondo Roberti, l'efficacia della giustizia penale e civile è fra i presupposti essenziali per migliorare la condizione economica del Paese. Al convegno è stato presentato il caso emblematico di Ercolano, dove il rapporto fruttuoso fra commercianti, enti pubblici, magistratura e forze dell'ordine ha portato a decine di denunce col sostegno del coordinamento napoletano anti-racket e dell'Associazione Ercolano per la legalità. L'esperienza di Ercolano, devo dire che in qualche modo è passata anche prima da Napoli, perché a Napoli le associazioni anti-racket, a Pianura, a San Giovanni in particolare con Silvana Fucito, hanno costituito un esempio importante. La risorsa fondamentale dell'associazionismo anti-racket è la fiducia. Il fatto che i cittadini hanno fiducia innanzitutto tra di loro, gli imprenditori, i commercianti si mettono insieme e la fiducia è il principale antidono alla solitudine.